Il vero tema è questo, quando arriva il Covid in un ospedale devi avere la capacità di creare davvero una sorta di chiusura ermetica e questo è mancato in una fase iniziale, che è il motivo perché poi a Napoli, per me è incredibile perché noi si aspettavamo mai che l'eccellenza arrivasse da Napoli, la storia del Cotugno napoletano ci ha tutti sorpresi perché a Cotugno cosa hanno fatto? Hanno creato una situazione quasi da astronave rispetto all'elemento Covid. Per questa cretina l'eccellenza che viene da Napoli è sorprendente. Io ti voglio ricordare che già negli anni 70, a venire ad oggi, tutte le volte quando abbiamo affrontato anche l'epidemia del colera, che mi pare che ha fatto tipo 10 morti, no? E poi ci avete insultato per 50 anni praticamente, ci avete continuato ad insultare e a Bergamo, a Brescia, all'inizio qualche settimana fa avete cantato a Napoli coronavirus. Proprio là forse voi siete ammissiato coronavirus, mentre sciatavate gridando cori razzisti. E quest'idiotta, che ha pure un accento napoletano che è Nataschkara praticamente, quest'idiotta si fa la risatina pensando proprio da Napoli un'eccellenza. Ne vergogna, ma quando l'apriamo una Norimberga sulla regione Lombardia, tutta l'Italia sta rischiando in fallimento. Migliaia di persone, milioni di persone non possono uscire da casa, perché la classe dirigente della sanità Lombarda ha fallito su tutto, sistematicamente. Cioè sulla coscienza migliaia di morti, perché non hanno chiuso gli ospedali quando sapevano che c'era il coronavirus, hanno mandato la gente a lavorare, hanno mischiato tutti, hanno fatto morte a decina, a strage. In uno stato serio, questa gente sarebbe stata arrestata sul colpo per tentata a strage e imputata alla corte marziale. In uno stato serio. In Danustat e Risciem invece permettono a un emerite idiota di farsi la risatella sull'eccellenza napoletana. Il Cotugno è un'eccellenza ieri, lo dimostra oggi a discapito dei tagli alla sanità pubblica che è di tutta Italia, ma è specialmente a sud, che hanno depauverato tutta la nostra forza, il nostro know-how e lo fanno da decine di anni, cara Mirta. Su questo dovresti parlare. Dovresti parlare del fallimento della classe dirigente politica lombarda, del facciamo l'aperitivo Milano non chiude. Adesso sento parlare ma ripartiamo da Milano. No, ripartiamo da Napoli. Perché dobbiamo ripartire da Milano? Ripartiamo da dove è fallita l'Italia. Da dove è fallita questa nazione? Ripartiamo da Napoli. Perché dobbiamo ripartire da Milano? Ripartiamo da noi, ripartiamo da quelli che vi stanno insegnando come cazzo si fa. Ma, ripartiamo dalla sanità campana che vi sta insegnando come cazzo si curano i malati. Noi ripartiamo dalla Lombardia, ripartiamo da noi. Perché dobbiamo ripartire dalla Lombardia? Non vi bastano i decini di miliardi di euro che vi siete mangiati nella sanità pubblica, nella sanità privata, il fiore all'occhiello? Ma dove cazzo lo tenevate questo fiore all'occhiello voi? Dove? Siete ridicoli. I fatti dicono tutt'altro. Voi siete la Lombardia, nelle classi dirigenti, nella classe dirigente, perché poi la gente non c'entra niente, chiaramente. E succube, come siamo succube noi, di una classe dirigente mediocre a livello nazionale e internazionale. Ma la classe dirigente Lombardia ha dimostrato che è la classe più alimentare di tutta Italia. Quindi, cara Mirta, apre una Norimberga sulla regione Lombardia, che ha fatto decine di centinaia di morti e milioni di persone chiuse in casa.